Eccoci qua, Olatodes ritorna dopo tanto tempo Time's Up. Io vi chiedo scusa per la lunga assenza. Di cosa parla oggi Time's Up? Oggi parliamo di atletica. Oggi parliamo per la precisione del record raggiunto da Marcel Jacobs che nei giorni scorsi a Savona ha corso i 100 metri piani in 9.95, secondo migliore italiano della storia. Anzi, secondo italiano della storia, ad andare sotto i 10 netti, a percorrere i 100 metri piani sotto i 10 netti, batte il record di Filippo Tortu che tre anni fa con 9.99 era stato il primo italiano della storia ad andare sotto i 10, a rompere il record storico di 10.1 di Pietro Mennea. Una nota su questo. Il record di Mennea sui 100 metri durava da quasi 40 anni. Per quasi 40 anni nessuno è riuscito a percorrere i 100 meglio di Pietro Mennea. E questo dovrebbe dirci già tantissimo di cosa è stato Pietro Mennea. È veramente della leggenda dell'asso barlettano. Su questo c'è un bellissimo podcast curato qualche tempo fa dagli elefanti, progetto molto bello di narrazioni sportive di Dario Costa e Dario Ronzulli, che vi consiglio. Tra l'altro, su Mennea è altra cosa. A oggi, 42 anni dopo il famoso 1979 di Città del Messico, quella distanza lì non solo è il record italiano, ma è il record europeo. nessun atleta europeo è riuscito a fare i 200 piani meglio di Mennea. Ma ci sarebbero tante cose da dire su Mennea, oggi non è il caso. Comunque, Jacobs. Jacobs, in dato, chi è? Marcel Jacobs è un atleta della polizia, ha 26 anni, e in questo momento, dopo alcune traversie che ha raccontato in questi giorni, ha raggiunto il miglior stato di forma, il miglior momento della sua carriera e ha raggiunto un tempo, 9,95, che se è replicato tra qualche mese a Tokyo, non è da medaglia, ma è sicuramente da finale. Si arriva alla finale dei 100 con 9,95. È una cosa assolutamente alla portata, ce l'auguriamo, sarebbe un grande risultato per lui e per l'atletica italiana, per lo sport regina. Si sarebbe detto una volta che ha bisogno di ritrovare visibilità, di ritrovare grandi risultati, e quindi è stato bene che le prime pagine siano tornate a dedicarsi a questo mondo che è sempre ricco, che vede impegnate tante persone ogni giorno e che purtroppo esce all'infuori delle grandi kermesse, che possono essere i mondiali, le olimpiadi o anche solo il Gondelgala a Roma. Comunque, la storia di Jacobs, la storia personale di Jacobs, lui è nato da padre texano e madre di Sienzano al Gala, quindi della provincia bresciana, rimette al centro l'atletica bresciana ed è la storia che voglio raccontarvi, anzi la seconda parte della storia. Perché? Perché l'atletica brescia ha un suo luogo, anzi aveva un suo luogo, che è il Campo Calvesi. Il Campo Calvesi si trova in via Morosini, alla periferia ovest della città ed è un luogo storico non solo per l'atletica bresciana, cioè che ci si è allenate tantissime persone, ma un luogo storico per l'atletica mondiale, perché proprio lì, al Campo Calvesi, nel 1978, Sara Simeoni è passata la storia, diventata la prima donna nella storia, a saltare in alto per più di due metri, 2,01. c'è il filmato della grande impresa di Sara Simeoni che in un tripudio di folla di centinaia e migliaia di spettatori, anche questo dovrebbe far riflettere un tempo, c'erano veramente tantissime persone a vedere l'atletica, i miti di atletica, adesso purtroppo i miti di atletica sono storia per addetti a lavoro quasi, ed è un peccato. E questo non vale solo per l'atletica, ma vale per tutto lo sport italiano, sarebbe da dire tante cose, ma non c'è il tempo. Perché il Campo Calvesi era il luogo della terrica bresciana? Perché il Campo Calvesi si trova, diciamo, in periferia, poi c'è la ferrovia che porta verso Iseo e anche la Val Camonica, dopo la ferrovia c'è una fabbrica che si chiama Caffaro. La Caffaro, per tutta la sua storia, ha prodotto il PCB, che è un materiale in colore, in odore, ma soprattutto altamente inquinante. L'inquinamento da PCB e da diossine, prodotto dalla Caffaro, ha reso quella zona di Brescia una delle più pericolose di tutta Europa. Infatti, l'area a sud della Caffaro, quindi a cominciare proprio dal Campo Calvesi, rientra nel cosiddetto SIN, che è il sito di interesse nazionale, che sono delle aree altamente inquinate, altamente pericolose, che sono oggetto di valutazioni di bonifiche da parte del governo, anche con fondi internazionali. C'è una lista di SIN importanti, da quelli più proposi come possono essere l'area di Tamburi attorno all'invalidità o a tanti altri siti in giro per l'Italia. Il fatto del SIN rende totalmente inutilizzabile il Campo Calvesi, che quindi da moltissimi anni non ci si può allenare. Tra l'altro negli anni scorsi, i gruppi di Atletica Bresciana, proprio non potendosi allenare al Campo Calvesi per la questione della Caffaro, avevano fatto anche delle proteste, alcune clamorose. Per esempio, si erano allenati sul selciato di Piazza della Loggia, ci sono i ciottoli in Piazza Loggia, che è una roba improponibile per fare atletica, ma non avendo un campo, fecero questa dimostrazione provocatoria di fronte al municipio e di fronte quindi alle istituzioni della città. Solo da qualche penempo è stato inaugurato nella zona di San Polino, cioè dall'altra parte di Brescia, un bellissimo impianto con una pista atletica di livello che restituisce un luogo all'Atletica Bresciana e quindi magari a tanti ragazzi che possono sperare e sognare di diventare le prossime e i prossimi Marcel Jacobs e ottenere grandi risultati per l'Atletica. La storia di Jacobs, secondo me, non è solo la storia della Caffaro e così via, ma è la storia di due questioni. La prima è comunque di un'Italia multietnica che è presente e che troppe volte ha spazio solo quando ci sono i successi. Penso, per esempio, a quando si è parlato di gli artisti del Pichino anche con un linguaggio di cui sarebbe da discutere e meriterebbe una punta da parte. Oggi dovremmo fare cinque focus diversi solo su questa storia, ma non finiremmo mai. Vi voglio regalare una pillola breve per ricominciare con Time's Up. La seconda storia è il fatto che l'Atletica come tanti altri sport ci può dare tantissime cose ma ce ne accorgiamo solo nei momenti bellissimi o nei momenti bruttissimi. Ed è un peccato, invece, meriterebbe sempre quello spazio che adesso è riuscito a dare e che, per esempio, nei giorni scorsi è riuscito a avere su giornali e siti con pieno merito. Io vi ringrazio per avermi seguito e Time's Up torna presto. Ciao!